Ciao a tutti amici, sono Marco del negozio Music Art Store di Chiaravalle. Sono qui per presentarvi una nuova rubrica che andremo a fare in questo periodo dedicata a tutte quelle domande che spesso sento che mi vengono rivolte in negozio dai clienti su degli accorgimenti di come fare o non fare determinate operazioni sul nostro strumento. Quindi andremo a guardare e ad analizzare degli aspetti prettamente tecnici. Questi aspetti possono essere dedicati e riguardare principalmente quei dettagli che fanno la differenza sul nostro strumento, quindi come andare a montare un clutch della batteria o sfatare vecchi miti tipo la pelle idraulica, quale è, quale non è, o come è fatta la costruzione di un determinato pedale, un determinato accessorio che noi andremo a utilizzare quotidianamente nel nostro strumento. Io vi lascio a questa presentazione, ci vediamo presto con il primo video dedicato alle pillole di drum. A presto, ciao amici!